E oggi girelle ricotta e cioccolato, perfetti in ogni momento della giornata, si preparano velocemente. Versa la ricotta in una ciotola, aggiungi l'essenza di vaniglia e mescola bene. Unisci poi lo zucchero a velo e fallo incorporare alla ricotta. Srotola la pasta sfoglia con il lato più corto rivolto verso di tè. Aggiungi la crema alla ricotta e spalmala su tutta la pasta sfoglia. Aggiungi le gocce di cioccolato o di pezzettini di cioccolato fondente come più preferisci. Arrotola la pasta sfoglia partendo dal basso e senza stringere troppo, altrimenti poi in cottura la pasta sfoglia farà fatica a gonfiare. Taglia il rotolo in sei parti e sistema le girelle man mano sulla carta forno. Versa il tuorlo in una ciotola, sbattilo con una forchetta e spennellalo poi sopra le brioche. Aggiungi la granella di zucchero e fai cuocere a forno già caldo, 180 gradi, per 20 minuti. Sono buone mangiate sia tiepide che fredde. E ora non ti resta che provarle.